L'appuntamento di novembre con un pomeriggio a Palazzo Zimbardi è stato dedicato al bilancio della stagione estiva di Idroscalo e a tutto il lavoro fatto in questi tre anni per rivalorizzare il grande parco della provincia di Milano. Si può dire che Idroscalo è quindi un parco rinnovato dedicato alle famiglie? È un parco straordinario, rinnovato e che ha aggiunto attività da attività con un livello di qualità, di sicurezza, di ambiente, di cultura che veramente non ha paragoni, io credo, nella realtà nostra e che è arrivato a questi livelli, certo per l'impegno dell'amministrazione provinciale tantissimo per l'impegno di una squadra di persone, come ce ne sono tante anche nel settore pubblico che danno il cuore, che si impegnano e che quando sono motivati danno un risultato importante. La misura di questo è il successo di alcune milioni di presenze che senza che si creassero problemi ma in una situazione di libertà e di ordine nello stesso momento di sicurezza per i bimbi piuttosto che per tutti gli altri evidentemente ha garantito che vi fosse un momento di relax, di riflessione, di sport amatoriale, agonistico non ha importanza ma che è a disposizione dei cittadini. Quali sono gli ingredienti che hanno reso Idroscalo così bello? La bravura del Presidente nelle sue intuizioni, il fatto che tutti quelli che ci lavorano sono innamorati pazzi dell'Idroscalo. Durante l'incontro sono stati premiati i vincitori dei tre concorsi Idroscalo Film Festival, Una panchina d'amore e Disegni al tuo Idroscalo con l'accompagnamento della musica di Tonino Scala.